Capuccio nero calato sul volto da cui si intravedono due ciocche di capelli blu. Melissa Russo Maciado, la 29enne arrestata per aver ucciso la neonata che aveva appena partorito gettandola nel vater e provocandone l'annegamento tirando lo sciacquone, si nasconde mentre esce dall'aula di tribunale scortata dai carabinieri. La giovane italo-brasiliana uscita dall'ospedale è comparsa davanti al giudice per le idagini preliminari, domenica Gambardella per l'interrogatorio di garanzia. Non ha risposto alle domande, dopo una lunga attesa sono stati disposti i domiciliari in Puglia a casa dei genitori e dalla Puglia era andata via due mesi fa ed era arrivata già a gravidanza avanzata a piove di sacco dove aveva iniziato a lavorare all'interno del nightclub. Dormiva nelle stanze sopra il locale dove la scorsa notte ha dato la luce alla sua creatura che ha brutalmente ucciso. Ho partorito, è morto, ha detto freddamente ad una coinquilina che stava lavorando a tarda notte nel night. Nella stanza i segni evidenti dell'orrore accorrono anche i due nuovi titolari, un cinese e un rumeno, ma i soccorsi vengono alertati solo intorno alle 5 del mattino. La procura ora indaga anche su questo, potrebbe infatti profilarsi l'ipotesi di favoreggiamento. Intanto si è aperto anche un altro filone di indagini, quello sulle attività che venivano svolte all'interno del locale di Lapdance. Il pubblico ministero Sergio Dini ha ordinato il sequestro del serale per sfruttamento della prostituzione. Proseguono le indagini sul decesso del neonato a piove di sacco dell'altro giorno. Stiamo facendo accertamente anche sulla condizione dell'esercizio commerciale sottostante all'appartamento dove si è verificato il tutto. Accerteremo se nella condizione dello stesso possono essere stati commessi degli illeciti. All'interno, oltre a Melissa Russo Maciado, lavoravano altre tre giovani dell'est Europa e al momento il fascicolo è stato aperto contro i gnoti.